Ultima nota, nelle schede trovate, devo dirvi anche con grande positività, la Guardia di Finanza ha partecipato in maniera molto sobria, lo dico perché credo vada a suo merito, ha partecipato a tutte le audizioni, sedendosi a lato a noi e ascoltando, molto ascoltando, virtù assai poco praticata, ascoltando le organizzazioni. Ed è stato molto interessante, credo che anche da parte loro ci sia stato anche un momento di conversione e di conoscenza di questo mondo. Concludo anche, e mi preme anche qui dirlo, ho visto anche dei colleghi, che alcune schede sono state anche scritte, compilate, con la collaborazione di coloro che fanno raccolta fondi. Mi riferisco in particolare all'SMS Solidale. Quella scheda che voi trovate è stata costruita in collaborazione con i gestori della telefonia. Anche questa è stata una collaborazione molto importante, molto significativa. Ci hanno comunicato le loro preoccupazioni, ma anche il loro desiderio di continuare a lavorare in questa direzione. Sapete che le risorse sull'SMS Solidale sono ragguardevoli, quindi è un settore in grande evoluzione. E anche con loro intendiamo costruire un percorso che rimanga aperto. Concludo dicendovi soltanto che gli allegati ovviamente sono strumenti. Noi su questo manteniamo aperto il confronto, la collaborazione, anche l'ascolto delle vostre competenze. È un materiale quindi in evoluzione. Sarà importante, Valerio, magari l'anno prossimo ritrovarci, perché noi questo sta a cuore, anche per sentire da voi stessi se queste linee guida hanno, come ricorda il professor Zamagni, anche non solo incrementato l'efficienza, l'efficacia, la mole di raccolta fondi, ma anche se hanno fatto crescere il terzo settore italiano, le piccole e grandi associazioni. E semmai magari indicandoci quali sono i punti che vanno perfezionati, vanno arricchiti, vanno aggiustati. Quindi è un materiale, ci tengo a dirlo, direi in movimento, ma giusto che sia così. Mi sembra di avervi detto tutto e vi ringrazio. Si tratta di leggerli, di lavorarci. Mi sembra chiaro, l'ha detto Edoardo Patriarca, che questo è l'inizio di un ragionamento. Noi vogliamo farvi un piccolo regalo, professore. Abbiamo pensato che voi siate le persone più indicate per ricevere la maglietta del festival del fundraising. Questa è la maglietta dei volontari. Tra l'altro la frase che c'è scritta dietro questa maglietta, cioè non so dove sono, chiedi a me, per lei è molto adatta, perché noi chiediamo a lei dove siamo e dove andiamo. Grazie di nuovo. Grazie.